Al tartufo, e anche l'altro in realtà Eyyy Podcast numero 777-777-4 Oggi è il ritorno Qua stiamo cucinando una pasta con funghi e zucchine Qua stiamo preparando una bevanda stile ayahuasca Con base di mimoso stilis e foglie di capi Ma un inibitore e pianta contenente DMT Al fine di migliorare e rettificare i nostri corpi materiali e sottili Oggi è un grande giorno Grande giorno, grande giorno, big fire Fire è la festa di non so come si chiama Alla visita il luogo, c'è la caravane E' la caravane mondiale, verde, arco iris E tutte le cose che si chiama E si passa bene Giuseppe, che ti pensi di questo momento storico? Sono focalizzato alla melanzana Nessun momento e non chiedo pensare massa al futuro Mangiatevi un piatto di pasta, io vi dico Siedetevi con me Abbiamo riciclato la città da dei mercati vicini E facciamo ciò che possiamo Qui abbiamo Teo, un special guest e Pulpo Pulpo, che un turista dice Oh, è un bambino! Sì, Pulpo non sembra 14 anni È solo un bambino Signor Pulpo Ma è il nostro maestro Il nostro maestro Per chi si può sentire la vibra della foresta Siamo in Font Pedruz Adesso le hot springs Siamo molto relazioni Perché, come possiamo ricordare A nostri cari spettatori Siamo in carovana verde Carovana mondiale Per la Turchia Carovana arco iris Deve todos los colores Deve todos los lugares La razza Y la... Los pensamientos Para... Llegar hasta al corazon De quien tiene vida En este mundo Y oye, nos despertamos Entre la vida e la muerte Dejando un compañero Muy joven Per la vida e la muerte E seguimos Un salato 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 è molto importante perché c'è berenziena in l'Italia. LUCAAAAN! FOLÍA! Ok, tu chiedes tutto. Mà zucchini? C'è un montón, eh? No, no, basta. Un montón. Abbiamo più salsa che pasta. Panna e queso e via. No, però che panna è nata. Nata. La mancilla del tetrapasso. La mancilla del tetrapasso. La mancilla del tetrapasso. La mancilla del tetrapasso. Un po, però molto leggero. No faccio nulla. Solo sentire il movimento. Vamos a respirare una volta. Sì. Tutto il gruppo. Sì. 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 Si no faccio questo, mi non faccio la spie. Mi sanno le per partire l'amore. Sì, è un giallo. Sì. 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 Hai una tarantula azzurra? Tarantula azzurra Grazie per la prenderla Probabilmente è bello di prenderla ho messo lì per prendere alcuni pezzi nel giorno Sì, è ok Il sciamano? Qual è quindi il nome della medicina che sta cucinando? Wow Stiamo facendo guaguahuasca È l'ultimo prototipo La caladilla Ho scoperto che il chamano è il perro Il... come si chiamano? Il Yam Il Yam è un perro di chamano Il Yam è il perro di... Luzio Di Yamal Ma che di Luzio Io... il Yamal le chiamano Il Yamal le chiamano Io... 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 Il Yamal le chiamano Io... 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 Vieni... I viene la montagna che ha parlato, no? Sì Sì Sì, il Yamal dice... l'Ecco che ha parlato per te L'Ecco E l'Ecco Dio L'Ecco del Lecco L'Ecco del Lecco Sì, Sì Il Yamal le chiamano Il Yamal di Dio Il perro. Dock è gott. Dioccan, eh? Stavo io con un rapeazzo e mi venivo. Sabe, il perro. Ora, lo voy a improvvisare, però quando venga la camera perché sono... ...después di usare il applicatore e non vuole problemi con le autorità sanitaria, per favore, introduzci il palo che ha metto in qualche hippie che ha trovato e lo lleva al fogo. E quindi, le dà la volta e lo introduce anche al fogo, se non si fia di si stesso. lo stesso. Ahi tiene. Que bueno. Ya tiene un cosito curupita esterilizzato con la maxima medidas sanitarias posibili in questo nostro mondo. in questo mondo. Stovis 2022. O io apprecio più. O le due cose a una volta. in questo mondo. E da un po' in questo mondo. E da un po' in questo mondo. E da un po' che tu observes che stai facendo. Che significa questo? Che si... Espera, sto intendo a la conclusione. Perché queste cose metafisiche sono complicate, però uno llega al final. Uno llega. così. Per la via corta o la via larga. Però llega. E quindi, se parte di una necessità o... poi... se tu non ti juzgas a ti mismo per ello. Però si te estás juzgando e sta... e tu pensamento se divide de tu acción. E il karma te atrapa. Però... Continuare. E il però lo ponete voi. Io tengo il proprio stato. Voy per lì. Hacendo cose del bene. Per il mondo. Interpol, per favore. Non mi vengano a buscar. Si ha parlato di karma. Per favore. Questo è il mio diritto. Vale. Tengo tutti i diritti. Reservati. Tengo il copyright. En ordine. E... Familia. Nos queremos. Karma Points. Bruja. Lucifero. Parlaci. Parliiii. Li ordeni che parliiii. Narraci con gentilezze. E quando si apre la porta vedi loro Boros. Al cerchio infinito una spirale che comunque si ferma. Si mangia su se stesso un serpente. Perché il serpente ancora non l'abbiamo capito. No. Ma che voce hai Lucifero? Che bobbino. C'è una voce che mi pare. Cambia a secondo delle circostanze. Adesso sono un po' ambrogiano. Ah. Nel palazzo. Stanno nel tempio. Cucinando. Per noi stessi riflessi dei altarici. Aha. Se mi fermo ci fermo al mondo. Non si fermi. Non si fermi Lucifero. Non si fermi Lucifero. Cosa pensa lei della vita? Che la vita è la morte e al centro c'è la pace. Insieme con la guerra. E qual'è la sua guerra? Sulla mia pace. In che piano dimensionale si incontra? Sedicesimo. Alla destra e alla sinistra. Al centro. Al centro. Al centro. E quindi questo è ciò che siamo destinati a fare. Mescolare. E mantenersi al centro. Non lo so. È un problema. Orfeos. E noi abbiamo i verdi. Abbiamo i verdi. Abbiamo i verdi. Cosa è la scelta? Cosa è la scelta? Cosa è la scelta? Non la scelta tra l'amorità o... Un po' la foglia di capo è incredibile. anche se la puoi bollire quando vuoi secondo me è come una struttura di micro boll ah, qual era il personaggio Morfeo? e come ha actuato Morfeo? Neo, escoge ya, me cago in la p*** che basta ya di pastillitas, eh? niño, che già va ora di madura, chiquillo a ver, che tanto telefono, tanto telefono ahi che se te absorbe, me c***o sopla un poco e dici, se pone serio Moria purissima che ti dice il favo? che è questo? è rica io non miro che la provo, eh? Sì, sì, lo ma è solo per... con il cao caliente sopra un po' Non è strana che la gente vomita, j***er Fai rica, sape a come... A ver, che sape? Come se ti come tutte le hierbas del monte Ehm... Ehm... I don't know if in Poland also they have these places like... The hood or I would say... Buildings of the city where people live And in the middle, I don't know, there is a little playground for children All the children are always there, I don't know I remember I was there... Climbing trees, eating... Peer or whatever Still green, not ripe Always like... Going to countryside I remember once I was... Trying to fish But... It broke actually Because I think... I don't know what the f*** I catched either Now that I think maybe I catch taroc or whatever But at the time I thought I catch, I don't know Big frog or something So I just broke the... The fishing thing and... In this little lake next to the country house With the compost toilet With the... Compost toilet I remember I... Pfff... Once I was little I just said no f*** I take a shower and I dig a hole to myself Because I don't want to enter there It was like smelling sober Ukraine... Well... The smell there in the summer It's just... Where's the last time you've been there? Last time... Maybe something like six years ago When I was later I was going there every year Since I was like three months Every year, every summer One, two, three months In which part of Ukraine? And... Actually quite... East... Sumi... Is called the city And how was the landscape there? Hmm... City is big but for example there is also river and lake In the city people go to swim And... You go a little bit out and it's... Big... Uh... Hills and... A lot of rivers A lot of water and big rivers and... The river you see like there is all these plants also inside but people swim anyway The smell also The most thing that I really can relate That it's something that signs my... My being is the smell Of the air in general How would you describe the smell? It's different... I don't know... It's just... Sweet... More yellow Yellow Yeah... It's something... It's like grass Also because probably I was going there almost always in the summer So it was this kind of smell But also the air... I don't know... Just coming down to the airport You go and... It's all different also because it's Ukraine like... As the Soviet Union... Ex... Soviet Union And you see the face of the people you see the... Cars from... The twenties going around... Or from... The... 1940 And it's... I don't know... Like... For me it's like... It's a place... From... Fairy Tales... Ukraine I mean... Then... The city... Okay... It's already... Kind of... More... I think what they used to take the people is alcohol Because they're... Wow... I never saw... A man... Older than... 70 years old... No... Or me... But yeah... Very difficult... The bread... Smell of the bread... The sour one... The black one? Sour one... Yeah... The black bread... Wow... So amazing... Grey... They call it... The kind of grey bread... But it's... Yeah... Black-brown... Yeah... Today is a weird night... Ahh... Ahh... That's... The light... Ahahahahahahahahah! Ahhahahah! Aaaaahhh... Aaaaahhh... Aaaaaahh... Aaaahhh... Ahh nuggets! Ftchooch... Ftch... La caccia di demoli. No, di caso che c'è una bambina nonata che sta con la febbre. Prima a sentirla sembrava... C'era una bambina con la febbre. E' stato qui per un'ora per un'ora che sta succedendo con questo sonore. Non so se è meglio. Molto strano. Andiamo là, e tutti questi ragazzi stavano con la febbre. La bambina in la tante stava facendo questi soni crazy. come c'è qualcuno che è stato tagliato vivo o qualcosa e loro stanno cattendo la cosa ah, sì, l'altra è, non è così buona ok, io voglio che sia il migliore l'aggiatura, l'aggiatura credo che questo è solo l'inizio è vero più di 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 più Per me, non so, per me ho capito, se faccio qualcosa così, senza una buona intenzione, non ho capito, se faccio la logica di cuore, se faccio la canale in modo melodico o in modo bellissimo, se faccio la canale, 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 probabilmente non, probabilmente non, ma per sicuramente la maggior parte delle energie non so, non so e non so, ok, se faccio la canale is tenere di fresco vella id Damo si aveva izlito di reggio economico i Trumpi, poi lo dzieci copior ну pog troionament fumando, non ho faccio della canale, nonuccio, sembrano no, non,bilirpor si... non lo so, ma potrebbe essere più... Ma è parte del cleanser. Alive, dinamico. Alguien potrebbe aggiungere alcuna della sua bellezza. È come parla, tutti parlano molto. Sono il primo. Sì, è vero. Chris, vorrei dire un po' di più di più di l'occhio? L'occhio? Perché ti chiedi? Non ho l'occhio. Ma che è l'occhio per te? L'occhio è solo la protezione del mente. È un'illusione. È un'illusione. È un'illusione. È un'illusione per alcune delle cose che sono creati nel mente. Se guardano, non c'è l'occhio. È un'illusione. C'è l'occhio. È un'illusione. È un'illusione. È un'illusione. È un'illusione. E cosa pensi? Perché le persone vogliono tracciare le pote? Perché non mi capiscono e non sapevano, non sapevano cosa faccio qui. E loro erano in fear. Perché qualche persona veniva in loro playground e comporta completamente diverso da loro. La xenofobia. Non voglio giudere tutto questo perché magari erano una o due persone che avevano problemi con questo. Perché non so chi erano stracciando le pote. Non voglio mettere tutto in tutto il paese. Non so chi erano stracciando le pote. Ma comunque, questo era un'indicazione per me che non è un paese per me. 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 È un paese per me. È un paese per me. Un paese per me non è un paese per me. Non sono un paese per me. Non è un paese per me. Non è un paese per me. Potendo essere appreciati e appreciati. E attrazione proprio. Paldi.